Devi costruire o ristrutturare casa? Chiamo per un preventivo gratuito. L'impresa Edir Sassi si trova a Ginosa, con uffici in Viale Martri d'Ungheria 25. Per informazioni, chiamare i numeri 338 59 39 373 oppure 099 824 51 37. Marina di Ginosa si prepara a vivere la 32esima edizione del Carnevale marinese. Tra i protagonisti dell'evento invernale di punta, l'Istituto Comprensivo Raffaele Leone che per l'occasione ha allestito un vero e proprio cantiere didattico, dando vita con le scuole dell'infanzia, elementari e medie, congiuntamente al team di volontari del gruppo Carnevale marinese, al progetto scolastico che giovedì 27, come concordato in occasione dell'incontro con i genitori svoltosi questa sera, vedrà la sfilata per le principali vie cittadine di alunni e studenti vestiti a tema, dando facoltà a chi non ha aderito al progetto di vestirsi liberamente. Per esigenze di carattere organizzativo, quindi, il progetto Carnevale promosso dalla scuola e finanziato con risorse proprie e dei genitori che hanno realizzato i costumi e i decori allegorici, non sarà concomitante con le sfilate in programma per il 2 e 4 marzo prossimi. Intanto prosegue l'attività dei laboratori didattici. Pensiamo che la cultura nasce nella scuola e nelle famiglie, quindi era assolutamente necessario coinvolgere le mamme in questo progetto. Sono ormai quattro settimane in realtà che i nostri bambini stanno lavorando ad un manufatto di carta pesta che andrà un po' a comporre un pezzettino del Carnevale di Gino Samarina. In ogni classe viene trasmesso non solo la cultura della carta pesta, che è la tecnologia tipica e caratterizzante del Carnevale, ma anche il lavorare insieme per un progetto comune, un progetto più grande. I bambini sono veramente entusiasti, stanno rispondendo benissimo. Il progetto interessa tutti i livelli di istruzione. La scuola dell'infanzia sta realizzando un manufatto bidimensionale, la scuola primaria ne sta realizzando uno tridimensionale. I ragazzi della scuola media stanno facendo un percorso un po' più introspettivo, tra virgolette. Fanno un laboratorio un po' più tecnologico, che ha a che fare con l'argilla, con la costruzione di un prototipo di argilla, su quale poi viene fatta una maschera di carta pesta. Chiaramente tutto questo lavoro poi sfocia naturalmente nella sfilata canonica del Carnevale e su questo entrano in gioco i genitori e le mamme, le mamme che costruiscono i costumi per queste sfilate. Come avete fatto questi pesciolini qui? Abbiamo visto dal disegno là, abbiamo fatto prima le prove dei colori, per scegliere i colori che ci piacciono di più, poi abbiamo visto la forma da là e l'abbiamo colorato. In occasione della manifestazione di Carnevale abbiamo attivato qui nella scuola dell'infanzia dei laboratori, in collaborazione con l'associazione Carnevale dei laboratori. Per i bambini, dal punto di vista didattico, abbiamo organizzato il laboratorio grafico, pittorico, manipolativo, creando dei pesci. Per quanto riguarda i costumi, le mamme si sono organizzate per realizzare i costumi ai loro figli, in collaborazione, in sinergia tra scuola e famiglia. Devi costruire o ristrutturare casa? Chiamo per un preventivo gratuito. L'impresa Edir Sassi si trova a Ginosa, con uffici in Viale Martri d'Ungheria 25. Per informazioni, chiamare i numeri 338 59 39 373 oppure 099 824 51 37.